Il dispositivo che presentiamo si chiama Bio-Imp ed è un medical device sviluppato grazie alla collaborazione di IT nell'ambito del progetto regionale Benefit. Bio-Imp è un bioimpedenziometro portatile, ovvero un dispositivo medico che permette di ottenere informazioni sulla composizione corporea attraverso un'analisi di parametri elettrici raccolti da quattro elettrodi. IT ha sviluppato degli elettrodi flessibili che permettono di raccogliere questi parametri in modo sicuro e sostenibile. Infatti attualmente gli elettrodi che si utilizzano sono use e getta e danno un costo di smaltimento elevato, mentre gli elettrodi di IT sono lavabili e riutilizzabili. Nello specifico, tramite l'analisi della reattanza, dell'angolo di fase e dell'impedenza, è possibile calcolare parametri quali la massa magra, la massa grassa, il metabolismo basale e la ritenzione dei liquidi. Tutti i parametri indispensabili per la valutazione di un medico o di un biologo nutrizionista che deve monitorare un paziente o un atleta. Il device si collega ad uno smartphone attraverso un'app chiamata Benefit BIA. Una volta avviata la misura del device si deve impugnare facendo ben aderire i quattro elettrodi. Dopo pochi secondi la misura è terminata e sullo schermo vengono visualizzate le informazioni relativi alla composizione corporea. I dati vengono salvati in cloud e sono consultabili in piantaforma web dal medico nutrizionista che può valutare l'andamento dei parametri nel tempo. Attualmente questo dispositivo medico è oggetto di uno studio pilota sull'uomo presso il reparto di nefrologia dell'ospedale Perrino di Brindisi. La bioimpedenziometria infatti è normalmente utilizzata per i pazienti idealizzati ed avere un dispositivo portatile e pratico velocizza le misure, rendendo più semplici le operazioni per i pazienti e gli operatori sanitari.